L'Istituto Superiore Pomponio Leto si conferma vicino al mondo dei giovani. Questa mattina, ospite degli allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tegiano, è stato il fondatore dell'Hip Hop School Gio Sassi, un vero e proprio mito della sfera giovanile italiana ed internazionale. Il famoso artista, dopo aver partecipato al forum sul tema Ballo o non sballo, si è esibito in alcune performance per la gioia di tutti gli studenti che hanno avuto l'occasione, più unica che rara, di apprezzarne ritmi e movimenti. Presente all'incontro anche il funzionario della Banca di Credito Cooperativo di Silla di Sassano che ha finanziato l'iniziativa, Antonello Aumenta. Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dai docenti dell'Istituto Superiore di Tegiano che hanno preso a pretesto la presenza dell'artista per far vericolare tra i loro studenti il messaggio che ci si può divertire, magari attraverso il ballo, senza per forza ricorrere alla droga. È stato questo, infatti, l'appello forte che Gio Sassi ha lanciato ai ragazzi del Pomponio Leto. Ballo, non sballo.